Significativo il bilancio della Polizia di Stato Aquilani in occasione del 171esimo anniversario della Fondazione. Polizia sempre più legata alla città che è stata determinante nel capoluogo per conseguire risultati operativi importanti dal punto di vista della sicurezza. La città è stata interessata per lo più dal fenomeno delle baby gang e della movida violenta. La questura è riuscita ad arginare il fenomeno senza fare solo repressione. Tante le operazioni portate avanti, quelle dello scacco alle baby gang, ma sicuramente da menzionare anche la risoluzione della rapina alla gioielleria ranieri in centro storico. In meno di un mese la Polizia ha assicurato i responsabili alla giustizia. Sicuramente è un legame sempre più stretto e comunque un livello di operatività molto molto elevato per i noti eventi che ci sono stati collegati anche alla ripresa post pandemia e quindi movida e risocializzazione a tutti i livelli che però hanno comportato anche dei fenomeni degenerativi su cui siamo dovuti intervenire sia dal punto di vista repressivo che preventivo attraverso l'emanazione di provvedimenti di prevenzione. Grazie. 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 Grazie.